Sergio Sorrentino per me è di famiglia, è stato un grande campione della vela e si è sempre avvalso di un pelaschier o comunque di un mio parente per fare l'equipaggio che poi gli ha consentito di vincere tantissimi titoli, tra i quali anche il mondiale dei dragoni. Prima mio zio Annibale, poi mio cugino Trevisan hanno fatto parte di questo grande equipaggio ma al di là di questo lo ricordo ovviamente prima perché ero un grande campione quindi da emulare e dall'altra parte quando invece con idee splendide per allora fondò la marina Annibale proprio intestata a mio zio che era Mastro Dacia quindi costruiva le varie che allora la tecnologia era legata a lei. Il legno dunque era quello che mi forniva le barche per vincere. L'International Annibale Classic di quest'anno è proprio dedicata a un memorial a Sergio Sorrentino, è comunque un ricordo di questo grande personaggio della vela. Assolutamente, per fortuna l'hanno immediatamente organizzato dunque se sarà possibile sarò presente e dunque porterò la mia presenza senza dubbi. 7, 8, 9 settembre al Marina Annibale.